Una persona molto attenta. Animali fantastici e dove trovarli, verrebbe da dire raccogliendo la testimonianza di una spettatrice e scherzando sul titolo di un film di animazione. Peccato che quelli che i nostri cuccioli incontrano per le strade, di fantastico, non hanno proprio nulla. Con l'arrivo della primavera, camminando per le nostre campagne, ci sono buone probabilità di notare che il nostro fedele accompagnatore non sia proprio così rilassato. Prima di noi, infatti, i nostri amici a quattro zampe avvertono la presenza dei parassiti che possono causare disturbi e danni molto importanti sia per loro che per noi. Si tratta di zecche, pulci e le pericolosissime processionarie, bruchi pelosi, con l'abitudine di muoversi in fila formando una sorta di processione e che possono essere letali per gli animali. Avevo in mente di fare un'oretta di cammino con i miei cani. A pochi minuti qui mi sono resa conto che la cagnolina Madison aveva qualcosa sul suo pelo, appunto è bianca, quindi si vedeva bene. Guardando meglio era una zecca e quindi ho preso un bastoncino cercando di farla cadere. Dopo qualche passo vedo anche Django, il secondo mio cane, che ne aveva tre. Comunque hanno entrambi il collare antipulci e antizecche e il giorno precedente gli avevo fatto proprio un bagnetto preventivo per i parassiti, quindi erano coperti e le zecche infatti non si sono infiltrate fino ad arrivare alla pelle, sono rimaste sul pelo. Il periodo di maggior contatto inizia marzo e dura almeno fino alla fine di aprile. Se il vostro cane dovesse venire a contatto con questi animaletti i sintomi sarebbero piuttosto immediati. Nel caso delle processionarie il primo è l'improvvisa intensa salivazione a cui fa spesso seguito il vomito ed evidenti segni di debolezza, il rifiuto del cibo e sintomi febbrili. Le conseguenze potrebbero essere fatali per l'animale e pertanto è necessario agire con la massima tempestività e portare il prima possibile l'animale dal veterinario. Possono trasmettere patologie molto importanti e a volte gravi e mortali per i nostri cani e anche i gatti. Alcune di questi insetti possono anche essere pericolosi per l'umano come le processionarie per cui va assolutamente tenuta sotto controllo di situazione e segnalato qualora si vedano processionarie e nidi di processionarie per poter bonificare l'area. Possono causare delle lesioni molto gravi ad esempio alla lingua fino a lesioni necrotiche che portano alla caduta di alcuni pezzi, alcune parti di tessuto della lingua fino a dare reazioni generalizzate molto gravi. Per quanto riguarda le altre invece già accennate, per quello che concerne le zanzare possono essere veicolo di trasmissione di malattie come la leishmaniosi e come la filariosi cardiopolmonare, malattie molto importanti soprattutto nella nostra zona a tenere sotto controllo. Pulce e zecche possono appunto trasmettere altre malattie che causano tendenzialmente gravi forme di anemia, cosiddette appunto malattie da zecche.